E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, condividetelo con tutti i tifosi della Fiorentina, mi raccomando che poi non domani che ci godiamo l'epilogo della lotta Scudetto e di quella per la salvezza, ma lunedì farò il video con i voti signori, il voto stagionale alla Fiorentina, il voto ad ogni giocatore, a tutte le situazioni, vi dirò per ogni giocatore chi terrei e chi no, quindi insomma il classico video di fine stagione della Fiorentina lunedì, quindi iscrivetevi, condividete e devastate di mi piace, 10.000 like esigo, guardatevi tutti i video fatti, seguite le pagine amiche, Viola Press, dodicesimo Viola, Space Viola, Suffering Fiorentina e che nostalgia anche ragazzi, a vedere lo stadio, io sono ancora immobilizzato, sono incaprettato a casa per notte e vicende, però che nostalgia vedere lo stadio, mi ha ricordato cos'era due settimane fa, bellissimo, bell'ambiente, sembra che la madre degli scemi è incinta sempre, per citare Marrakesh, un grande stadio, le foto, veramente tanta roba, allora, zona Europa definita, Lazio quinta, Roma sesta, Fiorentina settima, signori, e qui vi avevo detto che la Lazio sarebbe arrivata sopra, il buon Sarri avrebbe trionfato nella zona immediatamente sotto la Champions nei confronti delle altre rivali, tra cui la Roma, e la Fiorentina si inserisce al settimo, al settimo posto, scusate se non sono tanto magari in vena di devastanze, festeggiamenti, così però sono ancora un po' scosso dalla notizia che ho ricevuto ieri, devo dire la verità, veramente mi ha molto colpito quello che è successo a Dario, così tra capo e collo, quindi non è che sia molto in vena onestamente di festeggiamenti o cose, però detto questo, una bellissima partita, una bella gara, ho visto una Fiorentina concentrata, poi vabbè la Juve è scesa abbastanza in calosce, va detto quest'oggi, con alcuni giovani, formazione sperimentale, però a noi ce ne deve fregare relativamente, nel senso che ho visto una Fiorentina concentrata, una Fiorentina che ha meritato la vittoria, una Fiorentina che ha interpretato molto bene la gara, la riprova di questo è il fatto che non mi viene in mente un giocatore a cui dare meno di sei, onestamente oggi non ce n'è uno che abbia deluso, non ce n'è uno che abbia fatto una partita brutta, non ce n'è uno che abbia sbagliato, anzi mi è piaciuto molto, oggi commentatori nostri su Dazon, nostri per il biraghismo, sempre dimostrato, quanto ha gasato Biraghi quando ha fatto quella serpentina, si è preso l'angolo e è andato sotto la curva a fare dai cazzo gioita, ha gasato tantissimo, biraghismo dei commentatori, ma anche quel conciliabolo, quel conciliabolo bizantino a fine partita nel quale i commentatori di Dazon si sono messi a parlare tra di loro su Amrabat e Torreira assieme, assieme l'anno prossimo, finalmente ci siamo arrivati, finalmente all'ultima giornata di campionato ci siamo arrivati, interessante anche la libertà che avrebbe concesso Italiano nella scelta, nel senso avete sentito Amrabat ha detto sto io al centro, l'italiano gli ha detto decidete voi, stiamo quasi arrivando ad una situazione di doppio play, molto interessante anche in vista dell'anno prossimo e se devo citare magari un migliore in campo, ma mi viene in mente proprio Amrabat ragazzi, che ha fatto una partita veramente al veleno, al veleno gattuseano Amrabat quest'oggi, che strappi, che recuperi, che potenza, che sciabolate, che sciabordate, ma bene tutti veramente, io vi dico la verità, un po' c'ho il dente al tarlo per l'Europa League, sarei direi una bugia se non vi dicessi che un po' di tarlo al dente per come è andata la vicenda Europa League, ce l'ho, perché come vi ho detto ieri sera bastava veramente poco, in questo ciapano Europa, bastava veramente fare il nostro dovere contro la Sampdoria, e stavamo parlando di una Europa League veramente da andarci a prendere e che secondo me avremmo anche meritato, poi ci sta l'essere arrivati i settimi, anche un riconoscimento per la stagione che abbiamo fatto, non andare in Europa sarebbe stata una punizione secondo me molto severa per questa squadra, ci prenderemo la conference, anche perché diciamo gli anni, gli anni dai quali mancavamo dall'Europa iniziavano a diventare tanti, quindi se non altro anche per riconoscimento, se non altro anche per motivo di interesse, se non altro anche per cominciare a rientrare nel circolo delle squadre che vanno in Europa, che fa sempre bene, ci prendiamo questa conference, ci prendiamo, ci prenderemo questa conference, faremo questa conference, riassaporeremo un po' di Europa, certo, l'Europa League sarebbe stata tantissima roba, ma comunque, oh dai, finita così, va bene così, anche per riconoscimento, intanto ritorniamo ad assaporare certi palcoscenici, chissà che possa essere anche una cosa utile per il mercato, non tanto magari per il fatto di attirare campionissimi, però magari allargarla rosa, dare più opportunità magari anche ai nostri giovani di giocarsi una competizione, andare a fare qualche scelta in più, mettere il muso fuori casa, andiamo a prenderci questa conference che diciamo più che come gioimento, più che come gioita, più che come devastanza per la conference in sé, diciamo che è un riconoscimento giusto per quella che è stata la stagione, che poi tutto sommato è stata una stagione al di là di diversi bassi, diverse gare magari che ci hanno fatto bestemmiare, però se uno poi giudica l'annata di per sé, è stata un'annata nella quale abbiamo visto la Fiorentina spesse volte giocare bene, spesse volte avere coraggio, spesse volte valorizzare giocatori, abbiamo fatto dei bei risultati da quello di oggi, abbiamo battuto il Milan che domani si giocherà lo Scudetto, abbiamo battuto la Roma in casa, abbiamo fatto diverse belle partite, ci siamo tolti delle soddisfazioni, oggi abbiamo riscattato in parte, ma comunque almeno a livello morale, a livello di ambiente, abbiamo riscattato l'ignominiosa gara di Genova, abbiamo messo un giusto sigillo, secondo me, a una stagione positiva, frattanto l'anno prossimo avremo un impegno super settimana, che sarà anche una cosa bella, divertente anche per il Canile, perché avremo modo di seguirla, avremo modo di pasteggiare un po' di clima europeo assieme, avremo modo di divertirci, quindi insomma una degna conclusione, non magari trionfale, ma nemmeno da buttare via, a inizio campionato penso che comunque l'avremmo recepita come una fine positiva, se non molto positiva, l'arrivare settimi, certo l'appetito vi è mangiando, secondo me si poteva fare anche qualcosina in più, avremo anche meritato qualcosina in più, secondo me, per la qualità del gioco espresso, vi dico la verità, ma non mi va di fare tanto il salice piangente, o quello che non è mai contento, insomma, abbiamo pigliato la conference, ci giocheremo la conference, vedremo come sarà, vedremo come andrà, adesso si apre un altro importante capitolo e vi invito a rivedere i video fatti anche proprio per questo, perché adesso si apriranno due o tre mesi che io giudico veramente molto importanti, perché per me, vista anche l'annata che abbiamo fatto, non tanto per l'accesso all'Europa, che poi in conference, diciamo almeno nella prima fase, affronti le squadre che affronti, però quantomeno anche per avere l'opportunità di fare un salto di qualità, ecco, secondo me, tra cessioni fatte, momento della squadra, allenatore che hai anche per invogliarlo a rimanere, prospettive che ci sono, perché comunque anche Napoli e Lazio non sono squadre che in genere spendono tanto, ecco, io l'Atalanta che è in una situazione un po' diciamo da decodificare, ecco, io penso che quest'estate avremo, come ho avuto modo anche di dirvi già, un'importante occasione per puntellare a dovere questa squadra e per fare un salto di qualità in diversi reparti, che non significa spendere 200 milioni, che non significa assolutamente rivoluzionare la squadra, anzi perché la squadra comunque è reduce da un'ottima annata e non c'è assolutamente bisogno di fare rivoluzioni astrologiche o via dicendo, ma di punterlarla sì e di punterlarla con qualità per me ha maggior ragione. Quindi ovviamente il calciomercato lo seguiremo, faremo il cattomercato, daremo le nostre idee, le nostre pontatine, i nostri servigi, saremo a fianco di questo percorso, però guardate che si aprono dei mesi importanti, perché secondo me l'opportunità per fare il salto di qualità c'è e secondo me è anche ora, è anche ora, è anche ora di farla. Quindi chiudiamo l'annata comunque in bellezza, chiudiamo l'annata ritornando in Europa, non sarà la porta principale, però quantomeno anche a livello di suggello, a livello di merito o di premio, ci può stare, secondo me è una cosa che ci può stare. Ditemi anche la vostra, vi ripeto, le pagelle non le faccio, tutti sei, ho visto bene Amrabat, bene Biraghi, bene Duncan, bene, ma bene tutti, mi viene da dire, bene tutti, oggi va così. Fatele voi su FanRating che vi lascio il link in descrizione, lasciatemi un vostro commento e un caro saluto.